Hai fame? Cosa vorresti mangiare per colazione? Che cosa hai mangiato a pranzo? Vorresti uscire per andare a cena? Come lo prendi il tè? Bevi caffè? Vuoi lo zucchero con il tuo caffè? Che tipo di condimento per la tua insalata? Per favore, passa il pane. Mangeremo torta per dessert. Ti andrebbe un po' di cheesecake? Che tipo di torta ti piace? Vuoi del pollo per cena? A che ora mangiamo? Ho comprato una bottiglia di... da bere a cena. Mi andrebbero le uova per colazione. A me piacciono le uova strapazzate. Niente lattuga nel mio panino, per favore. Posso avere un po' di tè? Io prendo panna e zucchero nel... Niente. È l'ora della pausa per il tè? Abbiamo dei biscotti da prendere con il nostro tè. Mi andrebbe una tazza di tè. Mi andrebbe una tazza di tè. Vorresti cenare? Cosa vuoi per cena? Ci vuoi il burro sulle tue patate al forno? Che tipo di condimento per insalata preferisci? Puoi avere torta o biscotti come dessert? Voglio un cheeseburger, per favore. Io preferisco il pesce al forno. Nell'insalata ci sono le cipolle? Dovremmo tutti dividerci una pizza. I muffin hanno un ottimo profumo. Questo pollo è delizioso. Ho molta fame. L'insalata è un pasto sano. Prendi un danese con il tuo caffè. I pasticcini sono un dolce delizioso. Come dovrei cuocere questa bistecca? Un bel panino suona bene. Hai mai provato il pollo fritto? Questo è un burrito al pollo. Il cibo messicano è molto buono. Il mio piatto cinese preferito è il chow mein. Per favore, metti un po' di aglio nella salsa. Si pranzo a mezzogiorno. Facciamo colazione alle sette in punto. Mangia un po' di cereali per colazione. Dovresti bere un bicchiere di succo. Voglio comprare un po' di latte. Il latte è una bevanda sana. Ho bisogno di acqua calda per il tè. Il vino si fa con l'uva. Sto bevendo sidro di mele. Il sidro di mele può essere servito caldo. Non mangiare troppa torta. La torta non è salutare. La torta viene spesso servita ai compleanni. Il gelato al cioccolato è un dolce gustoso. Io metto il gelato alla vaniglia sulla torta di mele. Le torte alla frutta sono le mie preferite. Con la mia cena c'era una fetta di torta. Con questa cena ci sono due verdure. Stiamo cuocendo un po' di pane. La pizza è molto facile da fare. Mi sono piaciuti gli spaghetti. Mi piace la pasta con la salsa di pomodoro. Stiamo mangiando zuppa di funghi. Ma inona Il corso il corso del corso del corso.